Tutta l'esperienza di Gigione D'Atome, aveva preso le misure sulla conclusione in precedenza Moraschini cede il tiro a D'Atome che però è chiuso, Schiltz sulla linea di fondo, ribaltamento ancora extra pensa di Moraschini, D'Atome ha preso le misure, altra tripla, time out tre minuti e mezzo da giocare nel terzo periodo, due blocchi per il Ciaccio, tiene vivo il palleggio poi sceglie D'Atome, arresto, tiro, canestro D'Atome fa anche un passettino indietro, Schiltz ha tanto spazio ma non lo sfrutta, D'Atome sopra Sabatini a rimbalzo, altro rimbalzo offensivo